quindi proprio step by step direbbero gli inglesi cioè passetto passetto quanto è corretto allora minimizzare diciamo una diagnosi così oppure invece quanto bisogna dare il giusto peso e darle un po importanza si minimizzare penso che sia appunto sbagliato a prescindere in quanto va a svalutare quelli che sono i vissuti soggettivi di una persona che sta affrontando un percorso ad alto impatto emotivo diverso è però ad esempio sdramatizzare e quindi sappiamo che ad esempio l'umorismo è una strategia di adattamento molto utile che appunto la persona può utilizzare che favorisce quella che è la regolazione emozionale e quella che è il riorientamento all'interno di un equilibrio che può essere perso allo stesso tempo però laddove osserviamo che la persona è eccessivamente pessimista o negativista nei confronti di quello che sta vivendo lì occorre intervenire perché sappiamo che questo processo di catastrofizzazione può invece impattare mononegativo su quella che è la sua condizione emotiva. Porre la giusta preoccupazione e attenzione alla realtà è assolutamente utile e congruo in quanto ovviamente favorisce quella che è l'aderenza alle cure al percorso di terapia del paziente. Anche qua ricordiamoci che sperimentare preoccupazione piuttosto che paura piuttosto che ansia di nuovo è normale ed è una risposta fisiologica a quello che è l'adattamento al percorso. Importante dal nostro punto di vista è monitorarlo e intervenire laddove invece la manifestazione di preoccupazione e di ansia diventa troppo.